La mia domanda riguarda gli utenti discreti su Grindr. Ho dei pregiudizi nei confronti di chi non ha fotoprofilo o è titubante a mandarne. Mi dà l'impressione di poca onestà verso di me e verso loro stessi. Credi che il numero di profili vuoti su Grindr sia un indicatore di quanta strada l'emancipazione omosessuale italiana debba ancora fare? Matteo. Ciao Matteo, la premessa al discorso che andiamo a fare è che il coming out è una scelta strettamente personale. Potrei spingermi nel dire che sia un dovere verso se stessi per darsi la possibilità di vivere una vita piena, onesta, con i propri affetti, con il mondo. Però di sicuro non è un dovere nei confronti degli altri. Possiamo però chiederci come mai tante persone siano così restie nel fare i coming out persino su un social network per omosessuali come Grindr. Fra l'altro non possiamo più dire che i social internet siano una realtà parallela, sono un'estensione della realtà a tutti gli effetti, sono luoghi d'incontro che frequentiamo molto di più che non i luoghi fisici, questo anche prima della pandemia. Quindi presentarsi col volto coperto equivale in un certo senso ad entrare in un locale con un sacchetto in testa. È anche una questione di educazione, mi spingo a dire. Addirittura se io entro in un bar e ordino un caffè e ho gli occhiali da sole, me li tolgo per fare l'ordine. Qualcuno dirà, eh ma non è una questione di coming out, è che io non voglio venire schedato su un database per omosessuali. Benissimo, però nulla impedisce allora di mandare la foto nel momento in cui si inizia il dialogo. Se questo impedimento c'è, allora sì, è effettivamente un problema di coming out. Peraltro non è raro che questi profili scarni contengano però una bella lista dei no. No grassi, no effemminati, no vecchi, che costituiscono un contributo negativo all'interazione umana che quella persona andrà ad avere. Proprio la locuzione no a qualcosa la si utilizza per denunciare un male che è un male in senso assoluto, no alla discriminazione, no alla violenza. Il grasso o l'età non sono mali assoluti, possono essere al massimo dei mali relativi per chi scrive. Qualcuno dirà, ma cosa devo fare se mi piacciono solo coetanei o in forma? Basta scrivere la cosa in positivo. Ringrazio in anticipo per chi mi scriverà, però specifico che sono interessato solo a persone con queste caratteristiche. E adesso Matteo ti do proprio il mio parere sulla domanda che mi hai fatto. Fra l'altro tu nel tuo messaggio, qui ne abbiamo mostrato solo una parte, dici in realtà di vivere all'estero e quindi fa dei paragoni. E li faccio anch'io. Io ho vissuto in Australia, a San Francisco, ed effettivamente la realtà è diversa. Su Grindr quasi tutti mettono la foto, è molto difficile trovare queste liste dei no, quindi confermo la tua impressione. Questo tripudio di profili vuoti, di teste mozzate, in realtà è indicativo ancora di quanta strada l'emancipazione omosessuale debba ancora fare, in primis per noi stessi, per vivere una vita più piena, più realizzata, più libera, e poi nell'interazione verso gli altri. Perché davvero in ogni nostro piccolo gesto ci possiamo chiedere se stiamo rendendo il mondo un posto migliore o un posto peggiore, anche quando andiamo a cercare cazzi. Grazie. 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 Grazie.